La barzelletta di Zeppo E' sera, due amici sono seduti fuori a un bar stanno ghiacchierando il più o del meno a un certo punto uno gli fa quell'altro pensa, la mia ditta sta cercando un cassiere allora quell'altro gli fa scusa ma non avete assunto uno due settimane fa? eh, e a lui stanno a cercare lo sveglio di me che esattori di dimensione sua roba scusate la barzelletta di Zeppo